Musica Ciao a tutti i fantasmini e benvenuti su questo nuovo video su Kotor 2 Bene, proseguiamo, proseguiamo E vediamo un pochino che questa zona cosa ci offre Speriamo di riuscire ad acquistare qualcosa Ma soprattutto speriamo di riuscire a beccare lo stronzo che ci è scappato Perché porca puttana Era un po' davanti a noi, lo stavamo quasi per acchiappare Ma questo chi è? Questa femora non maschia Rodiana ha venduto terobacce, lei ruba a me clienti, lei ruba a me Sei un mercante anche tu? Sciutta? Chiedi a Tweak, non è un vinghiero Lei ruba a me clienti per gamba Trascina via Molta frustrazione Io paga bei crediti per vedere lei via Morta cenere Spezza lei via come polvere su cassa di imballaggio Ok, vabbè Se davvero ti servono gli affari potrei parlare e trovare un compromesso Ti sbarazzerò di lei Se sei disposto a pagare Potrei uccidere per te e risolvere ogni problema Tu fai le via morta cenere Io può non offrire bei crediti ma può offrire merce con meno crediti Prezzo migliore rende pezzo più migliore Eh? Vale la pena eh Uno sconto sulle tue armi e corazze? D'accordo, affare fatto Lo farò Ora vediamo cosa è in vendita Tu occupa di femmina non maschia No, allora Tu non armi ammature e pezzo migliore da me Ora va Bene, fammi vedere chi devo uccidere Guerra commerciale Ah, devo uccidere Jedha Infatti non si chiamava Jedha o qualcosa del genere Porca puttana Vabbè Quell'ora laggiù ha dei problemi con te Credo che sia meglio che te ne vada nel negozio fuori del settore Siamo che te lo distrugga Beh, non te l'ho uccise però Eh mia non maschia Rodiana Andata via Andata via per sempre Se ne andate non tornerà più Non costruirà più un problema ora Ah, peso grosso così tolto da mia schiena Respiro facile ora Dedicare al lavoro ora Fare profitti ora Qui comprare armi E' un altro prezzo migliore Ora vediamo cos'è il magazzino Speriamo che ne valga la pena Porca demonia Cristallo rubat Cristallo al plasma Cristallo rubat Spada laser Cristallo Ah Non c'è niente Vabbè ma granata Vabbè questa granata qua Sì Le prendo Perché servono sempre le granate Minchile di raggio Manca Cos'è il raggio Vessi da gedi oscuro Porco demonio Deve essere miei Compra No Non ho abbastanza crediti Costo oggetto Crediti Ma come Non ho abbastanza soldi Questo oggetto Costa più di Più di Cinquecent Cinquecentocinquanta crediti Voglio ancora acquistarlo Sì Perché non dovrei acquistarlo Così adesso me lo metto Almeno L'unità leggera Quest'anti Quest'anti Costituzione Compra Ah Minchile non ho più soldi Vabbè Non importa Vabbè Oggetti da vendere Uuuuh Abbiamo comprato i vestiti Del Del cavaliere Gedi oscuro Bene 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 Megarbassai Però non ho ancora Spadalase Quindi Megarbassai Ma poco poco Ti dico che Sto qui Io ho detto Due tazzine Di valigette Cose Me le faccio Due Dovrei pagare Per due Copo Un'ombascata Di lecco Dopo Gioco L'estate Corrate Le pareti Oh oh Che nessuno Resti in vita Comondo Caputana Porca puttana Bastarda Vessi la Padawan No Vessi la Padawan No Non Vessi la Padawan No Vessi la Padawan Porca puttana Ma no Quello d'oscuro Ma come Vessi la Padawan Eh Devo ricaricare Un attimo Ragazzi Non capisco Perché mi T'avessi la Padawan Io voglio Vessi la L'agere di oscuro Ma non c'è più niente Ma non c'è più Ma non c'è più addirittura Ma allora va proprio a caso Celle di energia Sì va proprio a caso Avevo avuto un colpo di culo Ma dimmi te Ma che merda Ma dimmi te Che merda Spada da guerra Sì Eh però è una spada da guerra Da due asce Grazie Sì Sì Ah Take him down More where that came from More where that came from Oh Vaffanculo Pezzi di merda Non sapevo mai che cazzo voleva Vaffanculo Ce l'abbiamo fatta va a cagare fammi salvare va Non è che mi piace moltissimo però questa vibola ma dico però pazienza Hey I saw that ship you flew in on my ship Your ship I'd lay off the spice if I were you that's our ship not yours was I talking to you I tell you that ship's mine It's the ebon hawk isn't it she was stolen from me during a routine run in the mid rim Minchia Vi parla sarà mai qui A meno che tu non stai cercando guai più grossi di te io me ne andrei We'll see about that watch yourself Nar Shadda can be a rough Let me shoot him in the back no one has to know I wish the exchange would pack up the refugees and ship them all off the spice Bene per ora è andata come è andata curiamoci qui Qua non si può andare Qua siamo già andati Ah vedi comunque se era lui o lei quello che è che io mi ricordo che Jack era un uomo era maschio però comunque non l'ho ucciso quindi forse è per questo che è andata come è andata Settore rifugiati però il settore rifugiati era anche di là Settore rifugiati però il settore rifugiati era anche di là Ah c'è un Voki qua Ah deve essere l'assassino bastardo che mi voleva morto Vai proviamo ad andare di qua va Passeggiata ricreativa What the fuck? Cosa vuol dire passeggiata ricreativa Profugo Credici da spendere? Dammeni un po' caglianana Puoi vendere? Cosa potresti mai vedere vendere tu? Ma cosa mai avere tu da vendere a me? Spero eh Molte cose c'è del settore vi sono grandi Non posso servare per te direi Ah vedere qualcosa prezzo buono eh Noi Pagmone un po' caglianare Noi Nonostante Più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è che voglio giocare, però... Oh, salve. Mi hai accorto in circostanza sensuale. Di solito, per gli emoti dovrebbero giocare. Con fortuna voi abbiate trattato un momento di tranquillità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come doveva andare. Pustaccio. Puoi fare partita un'umana. Non accettare sconfitte sconfitte... Puoi fare partita un'umana. Puoi fare partita un'umana. Sto caccando sotto. Sto caccando sotto. Vabbè, questo qua... Vabbè, questo qua... è brutto pure... Allora... Allora... Puoi fare partita un'umana. Un'umana. Puoi fare partita un'umana. Puoi fare partita un'umana. Puoi fare partita un'umana. terribly... È brutta un'umana. Puoi fare partita un'umana. Disturb닭ati... per comprensorato da testo da richieste forse c'è quella di a quella di scappogliamo pacca mi ha tornato obbligato come me gis scuola niente posto tavolo ma non sprecciare non per te orecchie gnozzo di voglia dobbiamo vedere se quella lì al pazzar può ballare per lui altrimenti fanculo e lascia una fotta che se ne frega e ce la sbrighiamo poi dopo penso questa ma dubito fortemente niente non è lei immaginavo andiamocene via e andiamo verso parca puttani sta in culo sta cosa avevo trovato sti abiti da gede oscuro niente è molto randomizzato il gioco me la sono presa nel culo proprio detto in modo proprio e vediamo un pochino che cosa consiste sto posto non fare cosa fare prima l'inventazione tu non fuggiata sparisci dalla mia vista io non devo pagare il pedaggio e tu non devi pagare vai pure ecco bravo ho capito se no dovete rompermi il cazzo qua è impossibile vai il collo ok scendiamo di qua va bene qua no qua 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 si va su qua si va giù scendiamo un attimo ah merda questo posto non mi è per niente nuovo da merda ho già capito cos'è sto posto ah si ah si guai in vista ragazzi guai in vista bene parliamo con qua gaerial stenta lontani ho malato quanta cosa dicono oh è uno in mero ah si è uno in mero sei lasciato praticamente morire portate il cargo che c'è qua dentro c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno o no c'è nessuno infugiato c'è qualcuno o no no aia cazzo siete voi cazzo siete voi non chi chiede i sentiment non non ora ciao c'è non c'è 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 e ciò che fa per le persone che non lo possono controllare, o loro, e ciò che mostrano in tutto ciò che hai fatto, e in la tua face. Ok. Sì, è una sorpresa. 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 Sì, è una sorpresa.